I Monaci mi avevano detto che saresti arrivato dalle sottorotaie Precarsor. Interessanti, vero? I Precarsor le hanno usate per costruire il mondo molti e uni fa. Il sistema di rotaie conduce nelle profondità del pianeta, dove si dice che gli antichi donassero grandi poteri ai più meritevoli. Salverò il mondo con quel potere. Proprio come ha fatto Mar. Sì, hai già fatto una gran cosa permettendo alle teste di metallo di distruggere il palazzo. Oh, era proprio quello che volevo, ragazzo mio. Siamo in orario perfetto, Jack. Quella luce in cielo, sai cos'è? I nostri incubi ci hanno trovato e la fine sta arrivando! Dovevo accedere velocemente alle catacombe e quindi ho attaccato il castello di persona. Questo sarà il nostro piccolo segreto. Ma sei pieno di sorprese. Ma tu sei pieno di eco scuro. Tu e il tuo piccolo ratto siete due mostruosità. Ma io libererò questo pianeta da questa feccia. La pura luce regnerà nell'universo e io sarò la luce che brillerà in ogni remoto angolo del mondo e che distruggerà tutte le ombre! Mi scusi, conte vulgar. Sì, dice, venga! Sì, come vuoi. Non è forse bello nascondersi nelle tenebre di tanto in tanto? Rilassarsi! Guardando le pupe camminare con indosso dei piccoli bikini. Sai? Il loro movimento. Ecco, la mia coda prova sensazioni uniche in quei momenti. Basta! Inizieremo a ripulire questo mondo occupandoci di te. Preparati! Sto per evocare il vero, grande potere degli antichi! E questa volta i Precursor non avranno pietà di te. È vivo, Jack! E questa volta i Precursor non avranno pietà di te. E questa volta i Precursor non avranno pietà di te. E questa volta i Precursor non avranno pietà di te. Precursor non avranno pietà di te. E questa volta i Precursor non avranno pietà di te. Oh Oh Para un altro carrello della miniera Oh Oh Prima di salirci sopra Aspetta che i pilastri si raffredino Ok I campioni sono di nuovo in circolazione Andiamo a vedere in che razza di guai possiamo cacciarci